Più che una grande imbressa, una necessità del territorio che ad esempio nell'atto di governo numero 46 non ha avuto le segnalazioni opportune a differenza di altri ambiti territoriali dove soprattutto i parlamentari hanno avuto il modo di segnalare nelle condizioni e nelle osservazioni per le quali queste cose sono state inserite nel parere condizionato come dicevamo e quindi ad esempio si prevede la penetrazione urbana in ambito di Manfredonia con 50 milioni che era un'opera prevista nel patto per la Puglia ma non si prevede l'elettrificazione della linea da Foggia a Manfredonia così come l'eliminazione del passaggio a livello su Rione Diaz. Sicuramente questa che è la linea Foggia a Manfredonia ha l'aspetto legato alla penetrazione urbana verso Rione Diaz dove noi abbiamo ancora il passaggio a livello e siccome nell'ambito del contratto di governo numero 46 questa cosa non è prevista sarebbe auspicabile al pari di come hanno fatto altri rappresentanti in Parlamento del territorio di prevedere appunto questa integrazione Interventi sulla Foggia a Manfredonia, poi Termoli Gargano e Sansevero Foggia Poi Termoli Gargano e Sansevero Foggia invece questi interventi sono stati previsti, sono inseriti nelle schede apposite manca la previsione ad esempio tra la nuova stazione Tenti che ha due ipotesi di realizzazione c'è una scheda per la quale prevede che gli enti locali soprattutto il comune di Foggia ma anche la provincia definiscano questa individuazione ma manca il raccordo tra la nuova stazione e l'aeroporto Gino Lisa che invece è una delle questioni fondamentali che è stata anche ripresa nell'ultima riunione il 7 di novembre presso la prefettura con la quale la presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato dei temi rilevanti e tra questi temi c'era appunto l'aeroporto quindi di conseguenza abbiamo delle connotazioni che ci portano a far rilevare c'è stata anche recentemente come lei ben sa un'attenzione spasmotica verso i cambi di Omedei in realtà i settori di intervento molto più pregnanti dovrebbero essere questi quindi l'invito che io faccio ai parlamentari di quei rappresentanti anche di questa provincia ne abbiamo una copiosa pattuglia e che si porti a sintesi queste idee progettuali e che all'interno del contratto di programma tra RFI e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vi siano queste segnalazioni riportate all'interno con la realizzazione perché completerebbero il progetto di hub intermodale su Foggia.